pronto ok sono qui fuori ciao raga buongiorno ciao ragazzi ciao ragazzi sono arrivato sul campo il boss è pronto che la sfida a benizio colpani maldini d'ombroso e indovina tutte bondo uguali vignato ragazzi il quarto episodio di storie bianco rosse è appena terminato la sfida è finita in pareggio ci devo ringraziare tantissimo il monza per l'opportunità e i ragazzi dell'under 16 che sono fortissimi ma mai quanto il boss easy per il monza